In 80 pagine di foto e interviste esclusive, gli ultimi 11 anni del Benevento Calcio. Per te, 12 fantastici fascicoli da collezionare. Il 18 agosto corri al Benevento Store per il primo numero gratuito. Ogni mese una nuova uscita. Acquistando le pubblicazioni successive, il regalo un emozionante DVD con tutte le immagini della promozione in app. Benevento Calcio, colleziona la tua passione. Grazie a tutti.